Nell'immediato post partita della sfida tra Cesena e Virtus Arechi Salerno con coach Orlando Menduto e con Lorenzo Tortù coach innanzitutto con te ti chiedo di commentare questa partita, arriva una sconfitta nel primo round della Final 8 di Coppa Italia Sì, ovviamente siamo dispiaciuti, volevamo provare a giocare la semifinale domani invece così non è è passata Cesena, con merito ovviamente, sono stati più bravi di noi, hanno fatto meno errori di noi e quindi con merito vanno a giocare la semifinale Nulla Alla fine l'avevamo ripresa, siamo stati sempre lì in una partita dove non siamo riusciti a comandare il ritmo è una partita dove in difesa abbiamo anche retto bene, sinceramente faccio i complimenti ai ragazzi su tante cose anzi mi è sembrato che poi i canestri presi in realtà erano canestri sulle nostre disattenzioni qualche tiro aperto, però bene, sinceramente bene in attacco la palla è rimasta troppo ferma è vero che all'inizio abbiamo sbagliato tanti tiri aperti, però noi eravamo consapevoli che in queste gare qua ci può stare che costruisci un buon tiro e non va dentro quello che non ci può stare secondo me e che ci deve servire per salire di livello è il fatto di abbattersi o non provare a comandare il ritmo ancora perché ripeto, nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti tiri aperti erano tiri dove la palla era andata prima vicino al ferro l'hanno preso vantaggio e poi i giocatori giusti perché chi sta in campo ha la fiducia dell'allenatore hanno preso ottimi tiri è nulla, complimenti a Cesena Coach, complimenti a Cesena, come dicevi sono arrivati anche nel primo tempo dei buoni tiri, tiri ben costruiti purtroppo però non c'è stato dal punto di vista offensivo il contributo dei singoli che comunque hanno un'importanza capitale è vero che si gioca di squadra però Maggio oggi non è stata sicuramente la sua partita può pesare questo? No, 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 ma secondo me Roberto ha fatto una buona partita è normale che di fronte c'hai degli avversari che provano a toglierti quelli che pensano fossero i tuoi punti di forza però così come noi quando abbiamo costruito le tante vittorie che ci hanno portato qui non abbiamo mai esaltato i singoli dico che in questo momento non è un discorso di singoli è un discorso di squadra perché tutti abbiamo provato a dare il 110% in alcuni frangenti della partita c'è riuscito in altri no dove costruisci il miglior tiro possibile non fai canestro magari ti devi migliorare per provare a prendere l'imbalzo d'attacco o ti devi migliorare come secondo me nel nostro caso per non abbassare l'intensità e per preparare una palla in più in difesa magari invece di fare 59 e di fare 55 avevi vinto lo stesso con quei tiri aperti quindi assolutamente no singoli sì di squadra e io sono l'allenatore di questa squadra quindi ti metto il mio faccione io ho una squadra fantastica oggi ha meritato Cesena ripeto forse perché non abbiamo retto il ritmo per tutti i 40 minuti ed era una cosa che volevamo fare che ci serva di insegnamento è stata veramente una bellissima manifestazione volevamo che durasse un po' di più però Cesena ha dimostrato o meglio va con merito avanti Coach, un'ultima domanda proprio sull'analisi della partita è una competizione all'interno della quale i particolari fanno la differenza in determinati momenti si è avuta la sensazione che Cesena arrivava prima sui 50-50 ball quei palloni contesi quelle situazioni magari un po' convulse all'interno delle quali forse oggi contrariamente a quello che è accaduto in passato che la Virtus ha sempre imposto i suoi ritmi oggi si è fatta un po' fatica guarda non lo so o meglio lo so è successo loro hanno una fisicità importante hanno giocatori importanti hanno un bravo allenatore nulla, ripeto secondo me ci siamo fatti condizionare anche troppo rispetto a quello che era giusto fare da quei tiri ben costruiti e che non hanno trovato a essere positivo con queste squadre qui di alto livello ovviamente non riesci a portare a casa la partita anzi, ripeto una cosa positivissima secondo me è il fatto che abbiamo retto in difesa l'abbiamo tenuto sotto i 60 punti poi è normale ma penso anche all'ultima rimessa dovevamo fare una cosa ce n'è uscita un'altra e queste sono le cose su cui dobbiamo migliorare perché ripeto che sbagli il tiri aperto ben costruito non ci può stare ti migliori in settimana queste cose quale dobbiamo togliere è un discorso evidentemente di squadra e non di singolo ed è responsabilità evidentemente dell'allenatore mettere a posto tutte queste cose perché l'unica cosa che noi non dobbiamo fare è farci prendere dall'ansia nel momento in cui le cose non vanno come vogliamo perché questo è il nostro campionato come dico sempre ragazzi è la nostra vita cestistica per cui tutto il resto sono solo chiacchiere si va in campo per fare il meglio quando non si riesce a fare il meglio bisogna comprendere il motivo per cui non si è riuscito e poi come capiterà a noi portarlo all'interno dei playoff perché abbiamo un campionato che ci aspetta perfetto grazie coach Lorenzo vengo da te per commentare appunto questa sfida arriva una sconfitta con Cesena il coach ha detto molto praticamente tutto su quella che è l'analisi tecnica e tattica della partita che cosa non ha funzionato dal campo guarda guarda le percentuali non le vedo nemmeno perché vedo che anche loro hanno tirato veramente male altri punti sicuramente non siamo riusciti a imporre il nostro gioco di velocità a correre quindi diciamo siamo ha fatto secondo me tanti errori ma in queste partite la vince chi sbaglia meno è basato sui dettagli ok abbiamo subito 59 punti però dovevamo essere più duri dovevamo fare meglio i blocchi dovevamo comunque fare più canestro o perlomeno attaccare di più ferro prendere più falli potevamo fare molte più cose l'onore a Cesena che ha vinto la partita se l'ha portata a casa non merito e mi rilascio un attimo alla domanda che hai fatto prima noi siamo una squadra vinciamo e perdiamo insieme questo è fondamentale almeno il nostro è un gruppo fantastico super lavora da agosto tutti i giorni in palestra con grande coesione con grande affiatamento e quindi vinciamo perdiamo insieme siamo una squadra oggi abbiamo perso da martedì torneremo in palestra a Salerno e lavoreremo su quello che abbiamo sbagliato e ritorniamo subito fra la testa sul campionato perché ci aspettano 6-7 partite alla morte per posizionarci nella posizione migliore in vista del playoff Lorenzo un'ultima domanda per quanto riguarda la tua prestazione sicuramente sotto Canessa è stata una vera e propria battaglia Cesena può contare su un giocatore di esperienza di Burkic nella seconda parte della gara però avete battagliato abbiamo battagliato direi contro una squadra che appunto fa del gioco interno ma fa sulla tutta la capacità di rallentare i ritmi il proprio marchio di fabbrica sì sono d'accordo vedendo anche dire che hanno fatto cioè tutte e due le squadre hanno tirato di più da tre punti che da da due punti tutti e due sono stati più bravi loro peccato perché ci tenavamo veramente tanto a far bene in questa competizione e mi piace dire che siamo dispiaciuti ma da martedì veramente si ritorna a casa si riparte adesso prendiamoci questi due o tre giorni per staccare recuperiamo le energie e si ritorna in campo più forte più convinti di prima per raggiungere l'obiettivo di inizio stagione e niente insomma questo qua grazie a voi grazie a tutti